E bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video più esattente si torna con le car review finalmente perché stanno uscendo tantissime card e oggi andremo a vedere il pacchetto neutrale del mini 7 festival delle leggende state connessi perché ci sono delle leggendari incredibili inoltre da questa car review vi dirò anche i vostri voti che avete lasciato su instagram anzi se non seguite la mia pagina su instagram fatelo che la vi metto tutte quante le storie potete votare secondo voi quanto è forte quanto è debole una carta in questo modo poi verrete riportati anche nel video perché metterò il voto popolare e il mio voto per vedere se effettivamente coincideranno le due cose oppure se saranno completamente distanti l'uno dall'altro già che ci siete trovate il link comunque di instagram qui sotto in descrizione e oppure sulla pagina canale se no basta andare a cercare dario mghs invece per quanto riguarda se mi riuscite anche a lasciare un bel mi piace magari iscrivervi se non avete ancora fatto per me è davvero davvero comodo ma banda le ciance guasta festa in totem truce la prima carta neutrale che andiamo a vedere oggi 4 mana 5 4 griva taglia scarto un'arma per pescare 3 carte che dire questa carta è abbastanza buona io la considererei più non pesca 3 ma un pesca 2 alla fine perché una carta l'andate a scartare quindi alla fine se avevate 8 carte in mano poi alla fine ne avrete una cosa come 10 carte è forte? allora non è male secondo me come carta tuttavia non la potrei definire forte voi l'avete votato una cosa come circa 3 stelle secondo me io sono un pochino più pessimista su questa cosa secondo me addirittura 2 stelle e mezza attualmente ci sono modi di pescare molto molto migliori rispetto a questa carta e per questo motivo secondo me non si vedrà giocata anche perché la condizione di avere un'arma non è banale e quindi se non avete l'arma e poi bisogna vedere anche ovviamente con che arma vuole scombare questa carta attualmente non ci sono armi che attivano qualcosa se vengono scartate magari in futuro ci saranno e questa carta diventerà giocabile ma attualmente come scritta per il meta di oggi non vedrà gioco voi 3 stelle io 2 stelle 2 stelle e mezzo andando invece alla prossima scusate non è questa andiamo a chiudere e abbiamo la magata l'antimusica 5 mana 5 5 grillo battaglia pesca 5 carte dai le magie pescate all'avversario ecco questa carta è un altro peschino molto importante leggendario quindi ovviamente non potete metterlo in doppia copia come il totem di prima ma parliamo un pochino no di questa carta perché è molto buona attualmente è vero ogni classe ha più o meno modi di pescare più o meno efficienti però oddio andare a pescare 5 carte è davvero davvero tanto ovviamente bisogna fare un mazzo con delle spell limitate se no addirittura liste in cui non giochino nessuna spell cosa che nell'airstone di oggi è abbastanza difficile da vedere io non saprei nemmeno che mazzi poter andare a pensare no che non giochino spell tutte le classi più o meno ne giocano e sono anche abbastanza molto forti quindi è una condizione comunque insomma impegnativa da rispettare perché di sicuro non vorrete dare le vostre spell però fatto sta che comunque la carta rimane molto molto buona questa carta voi l'avete votata addirittura un 4 stelle anche qui secondo me è forte però non è fortissimo quindi io rimarrei sempre mezzo voto più basso 3 e mezzo in qualche lista si potrà vedere non so bene dove potremmo andarla magari a giocare in un warrior in un tribe warrior potrebbe essere anche utile però peccato che questa carta non abbia una tribe però di sicuro la leggendaria di dopo è una delle leggendare più belle che abbia mai letto stiamo parlando dell'Elite Tower and Championship finale sfida l'avversario in un duello rock i giocatori devono spendere tutto il mana ogni turno o subiscono 8 danni o più di cosa stiamo parlando? praticamente questa carta se attiva il finale avrete questa spell qui alla fine del turno infligge 8 danni oppure spendi tutto il tuo mana per darlo all'avversario con più 2 danni ecco questa carta è interessantissima super divertente voi l'avete votata 4 secondo me è altrettanto ci può stare 4 più per proprio l'idea che mi piace tantissimo poi ovviamente i mazzi che si potranno permettere questo tauren saranno pochi magari qualche mazzo control o chissà che cosa però sarà anche interessante magari vedere l'avversario che deciderà di prendersi 8 danni immediatamente perché magari poi rischia di non poter andare a giocare tutto quanto il mana nei prossimi turni quindi rischia di magari andarsene a prendere 16 perché ovviamente se lo sono rimbalzati i due giocatori per qualche turno e così via quindi comunque è una carta interessante forse è la prima volta che vediamo una meccanica del genere molto molto carina 4 stelle anche e soprattutto proprio per il design della carta che mi piace tantissimo devo dire è una leggendaria di sicuro che non vedo l'ora di provare in qualche mazzo dove la potrei vedere magari appunto in qualche mazzo control ma si potrebbe anche pensare magari in qualche altra lista più mid range in mazze aggressivi è più difficile no perché verso fine turni tendenzialmente non volete andare comunque a fare un 5 mana 5-5 passo che non sarete nemmeno certi di poter fare con gli 8 danni che magari poi saranno anche 16 però intendo poi le vostre carte sono abbastanza di costo basso di mana quindi poi rischiate di andarvi a prendere voi tutti quanti i danni con mazze aggressivi andiamo a vedere anche le ultime due carte di oggi stiamo parlando di spacca speaker scambio quindi 4 mana 4-4 statistiche in linea però con una meccanica molto forte come quella di 3-able, grido e battaglia le magie dell'avversario costano 2 in più nel turno successivo allora carte del genere ne abbiamo viste in passato e anche nel presente perché attualmente c'è in campo si può giocare neofita che è una 2 mana 3-2 che fa giocare le spelle nemiche con un costo aumentato di 1 in questo caso è di 2 il costo in mana aumenta anche di molto da 2 si passa a 4 le statistiche sono in linea il vantaggio è avere 3-able quando è che vi serve questa carta? questa carta vi serve tendenzialmente quando state giocando dei mazzi aggressivi arrivate a turno 4 voi andate a giocare questa carta e togliete la removal a 5 dell'avversario ad esempio pensiamo a DK Blood che ha doppia removal a 5 a Warrior che ha la Brawl ovviamente magari a Mage che ha le spelle da 6 che magari può usare il coin o comunque magari usate questa qui a turno 5 non a turno 4 e così via una carta che è utile però a me non fa entusiasmare troppo voi comunque l'avete votata abbastanza bene sulle 4 stelle io sono anche qui un po' pessimista secondo me 3 stelle ci possono stare tranquillamente però a 4 non ci siamo proprio ultima carta di oggi invece abbiamo il musicista remixato 3 mana 3-3 assalto tiene un effetto aggiuntivo nella tua mano che cambia ogni turno quali sono i 4 effetti praticamente il musicista cambia diventa della chiesa e ottiene scudo di vino con assalto del musicista tropicale e ottiene furia del vento musicista rumoroso e ottiene veleno e poi c'è il musicista romantico che ottiene furto vitale che dire di questa carta è una carta abbastanza anche qui interessante voi l'avete votata 3 stelle su 5 è situazionale è tanto situazionale no? questo musicista e questo è il più grande problema è un pochino come l'arma del guerriero però se è l'arma del guerriero magari appunto con la meccanica appunto delle armi può vedere gioco secondo me questa è una carta un po' filler in arena potrebbe essere molto buona in ladder io dubito che possa essere giocata anche perché non avendo tribe non trova una giusta collocazione all'interno del meta attuale per questo non gli posso dare più di 2 praticamente ho preso tutti quanti i voti li ho diminuiti di mezzo o un punto vediamo se avrete ragione voi quindi tutte queste carte si giocheranno tanto oppure se avrò ragione io e quindi le carte vedranno il gioco un po' meno però insomma è senz'altro interessante direi che per oggi è tutto noi ci vediamo comunque stasera con un video in ladder così non vi faccio nemmeno mancare gli ultimi mazzi di questa prima parte di espansione infatti io vi ricordo che il 31 uscirà il mini set stiamo parlando di mercoledì quindi vi porto gli ultimi mazzi insomma pre mini set e poi andremo a giocare tutte le nuove diste a partire da giovedì direi che questo è tutto fate sapere cosa ne pensate voi di queste carte ma lasciate in qualche commento ricordatevi di seguirmi anche su instagram così potete votare anche voi le carte e posso fare dei sondaggi più precisi per le prossime car review e niente noi ci vediamo stasera ciao ciao ciao